Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Codi a tratti invece a causa del traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud sempre in direzione Bologna. In Fipili invece a causa di lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze un chilometro di coda in direzione Livorno. Uno sguardo sulla 11 dove a causa di materiali dispersi si segnalano rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Rallentamenti ma a causa di lavori in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Rallentamenti a causa di lavori anche sulle raccordo Sianabettolle tra Serre di Rapolano e Rigomagno in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!